Adesso abbiamo venerdì, sabato e domenica ancora da stare insieme. Ringrazio tutte, 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 tutte le amiche per i tanti complimenti e adesso mi devo far dire il nome di una signora che mi ha detto adesso, me l'ha detto ma... Ecco la tela, è arrivato il momento di una nuova creazione. È un pochino che non mi metto all'opera, insomma, con quelle cose da seguire sono molte e lo sapete che mi occupo non solo di arte e di pittura. Non mi tengono viva perché altrimenti amiche queste televendite che noia a guardarle 6 ore se non ci divertiamo un po', dai. Io ogni tanto Rubens li guarda, io no, li vedo così, su P. Di pittura ma anche di molte altre cose, quindi però gli appuntamenti sono molti e come vi dico spesso se andate sul mio sito trovate la newsletter con tutte le ore, le esposizioni, le mostre, gli appuntamenti che ci sono. Poi, allora, ultima possibilità amiche, mi sono dovuta, vedete, legare i capelli perché non ce la posso fare qui, è troppo caldo. Allora, attenzione, pezzo unico rimasto. Ci sono da qui per tutto l'anno, quindi è proprio arrivato il momento di dare dita a un'altra creazione. Sono quasi pronta, l'ispirazione c'è, mi cambio e mi metto all'opera. Che figata amiche!